Rientro in classe amaro per i docenti italiani perché dopo le festività natalizie hanno trovato un taglio nello stipendio di 150 euro. Il Ministero dell'Economia infatti chiede la restituzione degli scatti percepiti l'anno scorso con una trattenuta appunto di 150 euro mensili a partire da gennaio. Naturalmente la cosa non poteva passare inosservata tant'è che sono insorsi i sindacati pronti alla mobilitazione. A loro fianco si è schierato il ministro dell'istituzione Maria Chiara Carrozza che ha chiesto di sospendere la procedura di recupero degli scatti di stipendio del 2013 segnalando tra l'altro l'urgenza di un intervento in questa direzione anche perché nei prossimi giorni si procederà ai conteggi per gli stipendi di gennaio e febbraio e quindi ad adoperare le trattenute per recuperare la tranche prevista. Sul piede di guerra come dicevamo i sindacati secondo i quali la scuola ha già contribuito pesantemente a risanare i conti pubblici finanziandolo con i tagli di personale col blocco dei contratti di lavoro e col taglio del salario. In questo modo per i sindacati il governo continua invece ad infilare un errore dietro l'atto trattando il personale della scuola come sudditi e non invece come dovrebbe essere i lavoratori titolari dei diritti.